In questo video invece iniziamo a fare un argomento nuovo perché in classe non avevamo fatto le divisioni a tre cifre, quindi proviamo a guardarle insieme. Le divisioni a tre cifre sono quelle che hanno chiaramente tre cifre al divisore. Ora, una divisione come questa, 933 diviso 835, si risolve anche senza fare troppi conti perché è evidente che il divisore 835 dentro il 933 ci potrà stare solo una volta. Infatti il doppio di 800 è 1600, quindi due volte sarebbero abbondanti, non supererebbero i 933. Quindi la prima cosa che bisogna imparare quando si risolvono le divisioni a tre cifre è guardare bene i numeri perché prima di iniziare a fare tanti conti il risultato potrebbe già essere evidente così. Comunque facciamo una verifica, 1 per 5, 5, 1 per 3, 3, 1 per 8, 8, 13, perché meno presta questo qui, eh, tendiamoci, 13 meno 5 fa 8, 12 meno 3 fa 9 e questo è il resto. Ci siamo? Proviamo a farne un'altra dove magari è meno evidente questo passaggio. 1868 diviso 820. È chiaro che qui io devo prendere tutte e quattro le cifre insieme e poi considerare le prime due per fare 8 l'8 dentro il 18. L'8 dentro il 18 ci sta due volte, me lo scrivo qua in un angolino giusto per ricordarmelo, ci sta due volte, 2 per 8 fa 16, al 18 me ne avanzano due che metto davanti al 6 e fa 26. Adesso mi chiedo, il 2 dentro il 26 ci sta due volte, sì, ci sta e me ne avanzano addirittura 24 che mettendolo davanti all'8 farebbe 248. Io, oltretutto, questo 248 lo devo dividere per 0, quindi è chiaro che la divisione ha come risultato 2, facciamo la controprova, 2 per 0, 0, 2 per 2, 4, 2 per 8, 16. Faccio la sottrazione, 8, 6 meno 4, 2, 8 meno 6, 2 e 1 meno 1, 0, quindi 228 è il resto ed è corretto perché 228 è minore di 820. Provate a farne adesso voi alcune, ne faccio vedere bene, 674 diviso 176, 421 diviso 201, 752 diviso 268, 1515 diviso 398, 1999 diviso 809, 1492 diviso 570. Vi invito ad osservare bene i numeri prima di iniziare a fare i conti.